Parte il 5 luglio organizzato dalla Proloco di Pulsano e patrocinata dal Comune di Pulsano, la Regione e dal Pascar Group, il Festival della Commedia di Pulsano. Da luglio a settembre da ridere in maniera intelligente. Sì, riprendiamo un'antica tradizione che dagli anni 80 veniva ogni estate organizzata sempre sul territorio di Pulsano. Quindi quest'anno riparte questa bellissima attività del Festival delle Commedia di Pulsano con 10 appuntamenti a partire dal 5 luglio. Qui nella cornice di Piazza Castello, quindi avremo il Castello dei Falconibus come scenografia naturale di questo meraviglioso posto. È importante ricordare che è un'attività completamente autofinanziata dalla Proloco di Pulsano con il sostegno del gruppo Pascare in Grosso per Famiglia. È uno sponsor che ci sta seguendo per tutte le attività della Proloco che prevedono appunto il Festival delle Commedia in Vernacolo, il Cinema al Castello nella sua quarta edizione che partirà il 14 luglio all'interno dei giardini del castello che la Proloco ha riqualificato e adottato. Il 31 agosto la rievocazione medievale del Pulsano, questa rievocazione che da 35 anni portiamo avanti sul territorio. E chiudiamo poi l'estate con il 12 e il 13 agosto un evento enogastronomico che quest'anno si pregia di avere la terza S di solidarietà perché diamo ampio spazio all'attività del terzo settore. Presenti alla conferenza stampa nel Castello dei Falconibus, l'assessore alla cultura, spettacolo e turismo del Comune di Pulsano Alessandra D'Alfonso, il presidente della Proloco Pulsano Francesco Vergallo, la compagnia teatrale Imeuschi di Pulsano e Carmine Passarelli, presidente del Pascar Group. Uno dei motivi per cui Carmine Passarelli, quindi il Pascar Group, è diventato main sponsor di questa manifestazione è reinvestire i profitti derivanti dai clienti stessi. Esatto, esatto. Noi come politica aziendale vogliamo reinvestire parte dei nostri profitti derivanti appunto dalle vendite dei supermercati dove siamo presenti. Una forma di grazie ai nostri clienti in tutti i paesi, in tutti i luoghi in cui siamo presenti, quindi in tutti i vari paesi, in questo caso Pulsano. Ecco perché Pascar è ovunque. Sì, noi praticamente... Ovunque in tutte le manifestazioni sponsorizzate da Pascar, naturalmente. Cerchiamo di fare il possibile, siamo presenti in diversi paesi a Taranto, noi lo facciamo appunto per ringraziare il nostro pubblico. Quindi in questo caso a Pulsano, abbiamo un supermercato, l'entrata di Pulsano, ma continueremo ad aprire i suoi mercati. Però sui mercati a San Giorgio, che apriremo entro un mese e sicuramente anche a San Giorgio ti faremo sentire. Daremo una mano ai san giorgesi, se si può dire così, come si chiamano gli abitanti di San Giorgio. Appunto per farci sentire e dargli il loro piacere. Ecco perché il motto è ridere in maniera intelligente. Esatto, dieci appuntamenti con il teatro, il festival della commedia di Pulsano, ogni martedì da partire da luglio fino agosto e settembre. Iniziamo questa stagione estiva nel migliore dei modi. Alessandra, ti supportiamo.